Ciao a tutte, ed eccoci qua finalmente per un altro giveaway. Questa volta, come già detto in precedenza, i premi saranno tutti make-up, perché l'ultimo è stato con dei regalini solamente per le unghiette. Quindi stavolta trucchi, 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 trucchi. Allora, come al solito il video lo sto girando prima, quindi non so quando fare il montaggio, quindi non so quando lo pubblicherò. Di conseguenza non so quando inizierà e non so nemmeno quando finirà. Quindi, per la data di inizio e la data di fine dovete leggere qui sotto nell'info box. Ovviamente nell'info box troverete anche tutte le regole. Come al solito le regole saranno sempre quelle principali che metto io. Cioè vale a dire iscriversi a questo canale, mettere questo video fra i vostri preferiti e aggiungere altri 5 dei miei video fra i vostri preferiti. Allora, innanzitutto questa pochettina. Ovviamente vuota dentro. Come vedete è dorata con delle farfalline. Molto pratico comunque per, specialmente che ormai è estate, per chi deve portare in vacanza, per portarsi i cosmetici dietro. È molto pratico, è molto grazioso. Questa carinissima palette. Che come vedete è tre colori. Nota marca. E praticamente ora non so se nel video si vede. Un grigio tendente al celeste. O almeno, forse sono cieca io, ma a me mi sembra un grigio tendente al celeste. A meno che è il riflesso della confezione che me lo fa sembrare celeste. Ovviamente, essendo confezionato, non posso vedere bene il colore dentro. Ma comunque dovrebbe essere bianco-grigio e nero. In più, c'è anche un applicatore. La doppia spugnetta, praticamente. Vi leggo il posteriore. Polvere leggera e sedosa, tre tonalità già abbinate da sfumare a piacere per dare luce di intensità allo sguardo, lunga tenuta fino a otto ore. Si stende facilmente e adatto per chi porta le lenti a contatto. Olfato... Olfalmologicamente e dermatologicamente testato. In abbinato alla palette ho voluto mettere anche queste due matita. Che come vedete sono un appunto grigio e una su collo azzurrino. Perché, ripeto, non riesco a distinguere se l'ombretto centrale è un grigio semplice o un grigio tendente al celeste. Quindi ho deciso di prenderle entrambe. Che con sto caldo sembrano un po' squagliatelle, ma vabbè. Purtroppo fa caldo. Ci si può fare niente. No, questo video è stato girato in due giorni diversi. Perché quando ho iniziato ad elencare i premi, poi sono dovuta uscire di corsa. Quindi in automatico non sono arrivata a mostrarli tutti. Nemmeno mi ricordo. Comunque avevo mostrato la pochette. La palettina con bianco e grigio a nero con l'applicatore. Le due matita. Una azzurrina e una grigia. Grigia è presente argento. Non mi ricordo se avevo fatto vedere questo. Penso di sì. È un lipgloss molto neutro. Perlato. Poi ecco, non è un lucido labbra. Vi leggo che cosa c'è scritto. Rossetto cremoso a lunga durata. Impalpabile. Assolutamente vellutato. Rouge Sensation. È un rossetto cremosso dal finish semiopaco. Quindi non è perlato, è semiopaco. Dalla confezione invece mi sembrava perlato, scusate. La sua eccezionale formula permette una straordinaria tenuta. L'apposito applicatore consente una stesura precisa e definita. Non lo so. Mi sembrava perlato, invece no. È opaco. Comunque. L'XXL. XXXL. È di questo bel bordeaux. Molto va sul cilieggio. Carino. Dato che nell'ultimo giveaway che ho fatto, la ragazza è strata, che ha vinto, non ha Facebook, questo è rimasto da me. Quindi in automatico anche questo verrà rimesso in palio. Stavolta come normale vincitrice YouTube. Inoltre, dato che è arrivata l'estate e inizia a fare veramente tanto caldo, c'è pure questo fra i premi, che è come il becco d'oca, la di civetta, come si chiama, il becco d'oca penso, che è utilissimo comunque per sollevare i capelli dal collo. Dato che non sapevo che questo non sarebbe stato dato il regalo, io avevo comprato un altro, un altro e due cosine. E questo qua è una collanina fantasmino con appunto la sferetta, quella più grande che è verde. Vi faccio vedere. Come al solito sto strappando tutta la confezione. Per mettere un po' di scotch. Sono degli orecchini con i premi sono di questi. Stavolta non c'è il il premio in più mi piace per la pagina Facebook. Però se gli mettete il mi piace, a me mi fate solamente un favore, cioè mi fareste solamente tanto 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 piacere. Quindi indipendentemente da tutto, anche se non fa parte delle regole, vi chiedo di mettere il mi piace anche lì. Questo è tutto, spero che tutti i regalini... Dato che mi piace una volta, la persona estratta, la prima persona estratta, visto che ne preferite, aveva messo solamente il video di giveaway e gli altri 5 no, ho dovuto rifare l'estrazione. Quindi vi raccomando ragazzi, cioè magari poi alla fine venite estratta, ma perché non avete letto le regole, perché non avete nemmeno guardato il video, avete visto solamente i premi. Alla fine venite estratta e non vincete nulla perché non avete rispettato le regole. Quindi vi raccomando, è importantissimo leggere tutte le regole qui sotto in infobox. Questo è tutto, un bacione, ciao! Grazie a tutti!